Buon pomeriggio, sono Laura Anticchi, oggi vi parlerò di Time Toast per creare timelines dinamiche. Le timelines hanno grande importanza nella didattica in ogni grado di istruzione. Vi consiglio alcuni usi didattici per organizzare dati in una successione, anche liste di spese, memorizzare date di eventi, realizzare portfolios ad esempio rispetto ad un'attività o ad un apprendimento, pianificare progetti, mostrare gli step di un'attività da svolgere, organizzare idee e molto altro. Andiamo ora all'applicazione Webbase scrivendo nella casella di ricerca di Google Time Toast. Il primo risultato va bene, clicchiamoci su e siamo quindi portati nell'applicazione. Lasciamo la lingua inglese, possiamo fare il sign in, se siamo già registrato, il sign up. Con il sign up sceglieremo il nostro piano, choose plan, che sarà il piano public, che è gratuito. Compileremo qui tutte le nostre credenziali per il sign up. Una volta che è creato l'account, ci verrà inviata una mail per la conferma. Io naturalmente sono già registrata e farò il sign in. Con il sign in sono entrata nella mia dashboard e vedete che sono presenti le timelines che ho già predisposto. Non sono disponibili gruppi e users che sono per gli utenti pro. Mi basta ora cliccare su Add Timeline. Darò un titolo alla mia timeline, che la chiamerò Karl Popper. Dirò se è in bozza oppure dressed oppure è public. Scelgo public, scelgo una categoria, in questo caso biografi. Posso poi andare a scegliere una foto, choose a photo, se è già nella library di questa applicazione. Se l'ho già uploadata oppure posso fare l'upload. Upload, prendo la foto di Karl Popper. Apri e mi caricherà l'immagine di Popper. Create timeline. Posso scegliere se aggiungere subito un evento o add un time span, ossia un lasso di tempo. Facciamo il lasso di tempo. Quindi darò un title a questo lasso di tempo. Vita e opere di Karl Popper. Qui darò una descrizione. Metterò qualcosa, adesso metto grande filosofo della scienza. Scienza, potrei anche aggiungere un link, ma lo faccio dopo. Poi metto due lassi di tempo, ossia potrei mettere il mese, il day, il giorno e l'anno. Basta mettere l'anno. Come data di nascita, qui lo metto come data di nascita e qui corrisponde al 1902. 1902, la data di nascita e qui è la data di morte, il 1994. Questo è il lasso di tempo. Volevo dire che se scegliessi una data prima di Cristo, dovrei selezionare BCE, 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 BCE. Va bene così, perché non è il nostro caso, quindi di non sfruttare queste caselle. E vado a creare Create a Time Spam. E vado ad aggiungere ora un evento, Add Events. Il title può essere Logica della scoperta scientifica, la prima opera. Logica della scoperta scientifica. Posso qui mettere una Description. E posso aggiungere anche un link seguendo questa indicazione che c'è qui sopra tra le parentesi quadri. Quindi, questo, copio questo, quindi copia, incollo, CTRL-V. Qui posso mettere, ho incollato male, qui, aspettate. Ho dimenticato una parentesi quadra. Nel link test, vedete che comunque, ora mi risulta un po' troppo lungo il testo, perché mi da meno 9, quindi tolgo un pezzo di testo. E qui nel link test, metto Approfondisci. E nel link, aggiungerò il link di un video, ad esempio, di YouTube. Incollo il link, tutto procede bene. Poi metto una data, mi limito al, come avevamo detto, all'anno, quindi 1934. Potrei aggiungere anche una foto. Lo faccio dopo, magari con un altro evento. E poi, quindi, Create Events. Ok. Procediamo ora nella creazione della Timeline. Aggiungo un ora, un nuovo evento, Add Events. E qui, Migrazione. Nella description scriverò Che in seguito le leggi razziali emigra in Nuova Zelanda Metto una data 1937 Uploado una immagine Ho preparato dalla Nuova Zelanda in generale Quindi, aspetto che me la carichi Questa immagine ci mette sempre un po' E vado a Create Events Vedete che mi ha, in questo caso, messo l'immagine Poi posso Aggiungere un altro evento Add Events In questo caso, scriverò la miseria Dello storicismo Vado a mettere una description Qui Posso anche inserire il link Come vi ho fatto vedere prima Quindi copio il link Copia Control D Il link test sarà Approfondisci Come prima Come prima Inserisco ora il link Dopo aver inserito il link Dopo aver inserito il link Inserisco la data Che è il 1944 Miseria dello storicismo Vado a uploadare una foto Miseria dello storicismo Il libro Ok Aspetto che me lo carichi Fa fatica a caricare Però è un po' lento il sistema Però lo dovrebbe processare Ecco Quindi mi ha Vado a Create Events Vedete che mi ha messo Comunque l'immagine Del libro La miseria dello storicismo Vado ad aggiungere Un altro evento Add Events Sarà la società Aperta E i suoi nemici Vado a dare una description Contro lo storicismo Quindi Aggiungo anche Un link Copia Contro il V Quindi il link test Approfondisci E qui metterò il link Scelto Metterò una date E' del Questo Del 45 1945 1945 In questo caso Non metto una foto Ce l'ho già messa Create Events E quindi La società Aperta I suoi nemici Poi Posso Naturalmente Aggiungere Un altro evento Ad Events In questo caso Scriverò Congetture E computazioni Al solito Metterò Una description E un link Quindi ho aggiunto Il link E poi Posso uploadare Upload L'immagine Del libro Apri Congetture Vediamo Che lo carica Ok Ha caricato il libro Va bene Create Events Ah no Devo mettere La data Che è Il 1962 1962 Create Events Quindi ho creato Un altro evento Vado a creare Un ulteriore evento E in questo caso Sarà la conoscenza Oggettiva Oggettiva Al solito Metto la description Metto una data Questa è del 72 Quindi 1972 Questa volta Non ho messo Il video Upload Un'immagine Un'immagine Va bene Non è molto data Questa Vediamo se la carica Ok Poi ho messo tutto Mi sembra Create Events E mettiamo Un ultimo Evento Ora Quindi Add Events E a questo evento Lo chiamiamo Lio e il suo cervello Il libro Lio e il suo cervello Un libro molto interessante Vado a mettere Una description Aggiungo una data 1977 Questo libro L'aveva scritto Insieme Ad Ecos Comunque non l'ho messo Posso metterlo Più tardi Uploado Un'immagine Ad esempio Del cervello Apri Ok E vado a Create Events No Non ha Uploadato L'immagine Allora Vado a Riprovare Cervello Apri Vediamo Se la carica Ci mette Un po' A processare Ecco L'ha Aggiunta E quindi Vado A Create Quindi Upload Event Ok Ecco Vedete Che l'ha Comunque L'ha L'immagine Caricata Quindi ho Costruito La mia Linea Del Tempo Come vedete In maniera Molto Molto Gradevole Vado Ora In dashboard Dove Dovrei trovare Tutte le mie Timeline Ok Vedete che C'è anche Popper Che ho creato E posso View Vedere View Timeline Quindi vado a vedere La timeline Che è Public Ecco la timeline Così come L'ho Strutturata Posso aprire Naturalmente I vari Link Vedete che C'è L'approfondisci Che Mi Rimanda Al video Di cui Noi Stavamo Parlando Quindi questa È una linea Del tempo Aumentata Perché Contiene Informazioni Contiene Immagini E ha video Come potete Notare Se vado Poi A Public Timelines Posso Vedere Tutte Le Timelines Che sono State Pubblicate Dai Vari Utenti Che Possono Essere Disponibili Alla Nostra Visione Buonasera